Avvocato di Oda, secondo lei la normativa in materia di reati ambientali è efficace per tutelare il territorio? Ma guardi, il problema è molto semplice. Le leggi e la legge in sé è valida e con gli aggiornamenti recenti ancora di più. Il tema è se coloro che sono tenuti ad applicarla la applicano in modo corretto e soprattutto se gli organi pubblici controllano l'applicazione della legge in termini assolutamente diffusi. Questo è il vero problema perché purtroppo le strutture di controllo dello Stato italiano sono piuttosto insufficienti, quindi bisogna per forza affidarsi alla coscienza collettiva che spesso non è così positiva.